Salve a tutti e benvenuti ad una nuova recensione. Finalmente o purtroppo, insomma dopo tanto tempo, ritorno con i miei film horror e la musica elettronica, che due palle direte voi, ma pazienza. Allora, insomma mi scuso con tutti perché insomma è da più di un mese che non pubblico una recensione per via di vicende personali poco piacevoli, però nonostante questo ho trovato finalmente lo spirito giusto per ricominciare questo lavoro che poi lavoro tra virgolette perché è una vera e propria passione. Innanzitutto volevo ringraziare una pagina Facebook che si chiama Il mio film preferito è, la descrizione la troverete sotto, il link scusate la troverete sotto nella descrizione ed è una pagina che si occupa appunto di cinema e pubblica una serie di locandine e di film di vario genere nel quale attraverso i commenti di Facebook si può discutere sul film in questione. Ed è una pagina a mio parere molto interessante perché proprio spazia all'interno dell'orizzonte cinematografico, quindi non solo un genere preciso ma un po' tutto quello che è il mondo cult del cinema dall'origine fino al cinema contemporaneo, quindi andateci perché veramente ve la consiglio. Altra pagina che vi linkerò sotto nella descrizione è quella di Radio Vox. Allora che cos'è Radio Vox? La spiego in breve e poi quando farò video successivi vi illustrerò meglio il progetto e praticamente una radio gestita da noi ragazzi che facciamo parte di questo gruppo che si occupa di film, di musica, di attualità insomma, di progetti per l'ambiente, per i giovani, per lo sport eccetera è chiamato proprio Vox che opera nell'ambito di Bologna e provincia. E a partire dalla prossima settimana probabilmente dovrebbe iniziare un mio programma inerente sempre ovviamente come voleva si dimostrare, film horror alla musica elettronica. Però è una radio che sinceramente vi consiglio innanzitutto perché passano della musica molto interessante soprattutto di genere rock, indie, alternative eccetera quindi comunque dei generi musicali abbastanza particolari soprattutto per quanto riguarda i gruppi rock emergenti quindi ve la linkerò nella descrizione secondo me è un progetto molto interessante proprio perché proviene insomma dalla passione di noi giovani e dalla voglia di fare qualcosa. Bene, bando alle ciance, passiamo a parlare del nostro film di oggi. Il film che volevo recensire conclude un po' quel percorso argentiano che è iniziato con la lunga monografia e che poi ha visto il film Il profumo della signora in nero e finalmente concludiamo, tra virgolette, quello che è il percorso della visionarietà argentiana con questo film, questa volta contemporaneo così non facciamo solo horror vecchi questo film horror contemporaneo che se non sbaglio dovrebbe essere del 2000 del 2007 però, sì, dovrebbe essere circa del 2007 ed è Livide scritto Livide un film appunto francese spero si pronunci correttamente Allora, il film è stato diretto praticamente da dal duo francese spero di pronunciare bene Alexandre Bustillo e Julian Maurie spero si pronunciano così che sono stati un duo francese famosi per un film horror che è all'interie che è un film horror splatter che aveva fatto abbastanza scalpore all'interno del panorama cinematografico europeo per la forte violenza il forte impatto visivo e questa è la loro seconda opera cinematografica a mio parere sinceramente l'interiere è troppo spinto cade anche molto spesso nel gore mi ha lasciato un senso di vuoto invece questo film che va appunto a concludere questo percorso argentiano è molto interessante allora, il film nasce come omaggio a Suspiria quindi è un film che si potrebbe anche chiamare un Suspiria parte 2 insomma una continuazione di quello che è stato Suspiria perché è un film che ha proprio come obiettivo quello di rievocare quello di farci entrare dentro ancora una volta la dimensione che era Suspiria la trama è molto semplice parla praticamente di una ragazza che è Lucy che come praticamente arriva in questo paesino della Bretagna per assistere a delle persone anziane e praticamente si trova di fronte a dover aiutare insomma una vecchia signora che era stata una vecchia insegnante di danza che non si può più muovere dal letto ecco però Lucy viene praticamente a conoscenza che dentro questa casa nel quale è costretta a essere rinchiusa tra virgolette insegnante di danza si nasconte il suo grande tesoro che sarebbe costituito da gioielli lingotti d'oro eccetera e lei insieme a dei suoi amici a un suo amico e al fidanzato vista la grave situazione economica decidono di entrare in questa casa per rubare quello che è il tesoro anche perché la vecchia insegnante di danza non se ne può assolutamente accorgersi accorgere visto che è ferma inchiodata al letto e questa è la trama la trama generale ora andiamo più nei dettagli senza arrivare allo spoiler allora innanzitutto è un film abbastanza particolare è stato criticato per alcune scene che sembrano non avere senso alcune scene parecchio non disturbanti ma parecchio strane ecco l'aggettivo giusto è veramente strano perché la prima particolarità di questo film è quello di essere un film visivo cioè di dare grande forza a quella che è la fotografia grande forza al potere delle immagini piuttosto che alla trama quindi ancora una volta torniamo ad Argento e a quella che era stata la visionarietà argentiana e quindi la potenza della visione piuttosto che lo svolgimento della trama perché cronologicamente parlando questo film non ha un vero e proprio filo cronologico ci sono degli eventi diciamo che lasciano veramente tanti interrogativi aperti questo perché il duo francese si è posto proprio come obiettivo quello di emulare un po' l'ambiente e l'atmosfera di Suspiria per cui la prima caratteristica che si può notare è quella della visionarietà cioè della grande potenza dell'immagine e della fotografia rispetto alla trama e ci sono proprio delle scene veramente oniriche perché tali sono che non hanno nessuna spiegazione logica e che neanche ecco voglio dire siano particolarmente importanti per la trama ma che sono di forte impatto visivo soprattutto il finale è veramente qualcosa di impressionante a livello visivo altra caratteristica è che riprende il mondo argentiano è quello del simbolismo perché questo è un film simbolista carico di piccoli particolari di piccoli dettagli che ne fanno veramente un capolavoro dell'horror come il Suspiria c'era il piccolo particolare del pomello della porta gli occhi della protagonista eccetera e i vari particolari della casa nella quale è ambientata il film anche qui troviamo proprio una forte attenzione proprio al particolare in primis la protagonista Lucy è eterocroma cioè soffre di questa malattia praticamente di avere due occhi di colore diverso questo non è assolutamente casuale perché è un simbolo di fatti l'eterocromia viene associata ad avere una doppia anima e di fatti tutto il film gioca su questo e poi sarà il grande finale che non voglio spoilerare quello comunque l'idea di fondo è quella di possedere due anime il buono il cattivo il bene e il male il forte dualismo che caratterizza poi tutta tutta l'essere dell'uomo concentrato nel colore degli occhi della protagonista questa è la presentazione di questo film poi nel film c'è anche la presenza dei fuochi fatui che è un elemento diciamo che è sempre stato associato al mondo della magia al mondo folcloristico ma con tendenza mistica quindi ecco c'è molto di mistico in questo film e di fatti ecco mentre la prima parte diciamo segue più o meno una razionalità quando nella seconda parte quella che arriva verso il finale la razionalità sfuma per sfociare in quella che veramente l'onericità è quella che è proprio questo misticismo proprio quella che è la dimensione mistica la dimensione mistica della realtà e questo è un altro simbolo poi adesso andiamo nel dettaglio della trama per capire meglio questo film allora praticamente quando entrano in questa casa iniziano anche a indagare sulla vita personale di questa di questa signora soprattutto la protagonista che è interessata alla vicenda che sta dietro la una ex maestra di danza e praticamente scoprono che aveva una figlia che aveva una figlia di cui nessuno sa più niente si presume sia morta però non si sa a un certo punto i nostri eroi tra virgolette giungono in una stanza segreta una stanza chiusa a chiave la chiave si trova praticamente nel collo della della signora lo riescono a prendere questa chiave entrano in questa stanza e scoprono quello che è il vero tesoro della signora che è proprio la figlia imbalsamata e qui nasce la vicenda perché si viene praticamente a scoprire in modo del tutto particolare la storia di questa tra virgolette famiglia perché di fatti di fatto la madre e la figlia sono dei vampiri quindi sono delle creature della notte delle creature considerate strane al nostro mondo che sono costrette a vivere rinchiusi in questa gabbia che poi è la loro casa e praticamente attraverso dei flashback che avvengono attraverso il contatto fra i protagonisti e proprio diciamo la bambina imbalsamata ecco è la stessa madre che in alcune scene compare attraverso questo contatto si viene a scoprire proprio la loro storia e quindi c'è una forte componente emotiva anche in questo film e vediamo qui un altro particolare perché a un certo punto lo scopo diciamo della madre che essendo vampira non è morta a un certo punto si risveglia e lo scopo di tutto questo è ridare un'anima alla figlia per cui una delle scene finali prima della fine del film e la trasmigrazione dell'anima scusate se utilizzo questi termini ma è veramente un film simbolista è veramente un film che si colloca a livelli alti un horror abbastanza elitario e praticamente la trasmigrazione dell'anima avviene con il passaggio della farfalla da un corpo all'altro cioè si mette nel corpo di Lucy della nostra protagonista il baco il baco che praticamente si trasforma in farfalla uscendo dalla bocca della figlia dell'insegnante di danza che ritorna essere umana e qui abbiamo lo scambio delle anime e qui tornano ancora una volta il simbolo degli occhi quindi il simbolo di possedere due anime perché così Lucy e la figlia la figlia della di questa signora che si chiama Madame Gesselle sono un tutt'uno sono la grande potenza divisa fra bene e male ma il problema è che il male non può vivere il male è qualcosa che viene sempre considerato diverso ed è la diversità che non può vivere a questo mondo che deve essere per forza relegata che deve essere per forza ingabbiata e da qui prende avvio poi il finale del film veramente fantastico e per cui il tema portante il messaggio portante di questo film è sicuramente il diverso sia un film sui vampiri ci sono scene splatter ma non è quello l'elemento su cui soffermarsi l'elemento su cui soffermarsi è proprio questo cioè come noi percepiamo una persona diversa qui si usa quello che è il simbolo del vampiro per indicare la diversità ma è quello cioè queste persone sono costrette a vivere in questa casa sono relegate in questa gabbia in questa prigione e ovviamente è una situazione drastica è una situazione difficile da vivere però è anche una situazione che fa riflettere perché il tema della diversità è un tema assolutamente attuale e che ci fa paura perché il diverso ci fa paura ecco anche la grande idea dell'horror il diverso ci fa paura e dunque lo releghiamo dunque lo teniamo da parte facciamo finta che non esiste ma la nostra anima è composta da due parti il bene e il male quindi dobbiamo anche imparare ad accettare quello che è diverso sia negli altri sia in noi stessi questa è la grande morale del film poi parliamo del vero protagonista del film ciò che veramente incude terrore in questo film che è la casa come in Suspiria si dava grande attenzione all'ambientazione e alla scuola di danza il palazzo neogotico veramente affascinante anche in questo film si dà molta attenzione alla casa la casa che è veramente incute terrore perché praticamente è una villa abbandonata nel quale sono conservati gli oggetti di queste di questi vampiri e sono oggetti abbastanza particolari da un senso di claustrofobico una delle scene sicuramente più toccanti è quella in cui praticamente la madre Madame Gesselle l'aveva costruito per la figlia sapete il solito tavolo per prendere il tè con le bambole ecco qui però a posto delle bambole ci sono dei pupazzi che hanno delle teste di animali ecco e a un certo punto i nostri protagonisti arrivano in questo spazio completamente buio e vedono queste teste di animali animarsi ruotare verso di loro e guardarli fissi e questa è un'immagine molto forte che incute terrore incute un senso di claustrofobia molto molto forte e ancora una volta torna alla tematica del diverso perché questo insomma questo tavolo per prendere il tè con le bambole è diverso dalla nostra concezione dunque ci fa paura quindi tornano questi elementi e come vi stavo dicendo c'è una grande attenzione alla casa ci sono molte inquadrature sui quadri della casa sui oggetti i vasi i vari appartamenti all'interno di questa villa e c'è anche una forte attenzione alla luce molto prevalentemente questa luce notturna e quindi noi siamo catapultati in questo spazio notturno claustrofobico che ci sembra proprio di vivere in una prigione perché la casa il simbolo della casa è proprio una prigione nel quale viene relegata questa diversità questo essere diverso dagli altri altra caratteristica fondamentale di questo film oltre quindi alla visionarietà e a questo senso di claustrofobia a questo senso forte di diversità è sicuramente gli elementi di ripresa di Suspiria ripeto a parte la visionarietà e il simbolismo vi sono proprio dei forti rimandi a Suspiria per esempio il fatto che la vampira era un insegnante di danza peraltro che ha lavorato a Friburgo allo stesso modo ecco le streghe di Suspiria erano proprio insegnanti di danza che lavoravano nell'accademia di Friburgo uno due stessa ambientazione nel senso stessa tipologia di ambientazione grande attenzione alla location grande attenzione ai dettagli grande attenzione proprio allo spazio chiuso che incute proprio questo senso di disagio questo senso di diversità e e poi vabbè ci sono anche diciamo delle inquadrature molto simili e soprattutto le luci perché come vi dicevo c'è un'attenzione proprio a questa luce notturna ma anche qui è una luce abbastanza visionaria abbastanza onirica che riprende della luce di Suspiria è una luce con forti tonalità blu con forti tonalità rosse che vuole ancora una volta trasportarci in una dimensione che è irrazionale in una dimensione che ci terrorizza perché non è proprio della nostra razionalità non è proprio della nostra dimensione con la quale siamo soliti a confrontarci è proprio la bellezza di questo film è lasciarsi trasportare al di là ripeto dei rimandi a Suspiria e lasciarsi trasportare dalla potenza delle immagini che ci permette di entrare in questo mondo completamente razionale completamente diverso e alla fine del film rimaniamo con la mare in bocca perché comprendiamo il senso di questa diversità che ripeto è sia in noi stessi sia negli altri e quanto sia dura riuscire ad accettare se si riesce ad accettare la diversità quindi non fermiamo davanti a questi film non fermiamoci tanto a ci sono delle scene che non c'entrano con la trama non si segue l'ordine cronologico della trama ma concentriamoci sul vero terrore di questi film e il vero terrore è la potenza la potenza delle immagini la forza visiva che ci catapulta in questa irrazionalità questa dimensione irrazionale con la quale noi dobbiamo confrontarci con la quale noi siamo messi di fronte con la quale noi perdiamo completamente il nostro senso e ci perdiamo proprio in questa gabbia che questa casa dispersa in una regione completamente isolata della Francia quindi alla fine del film si ha un senso di isolamento un senso di veramente alienazione e ci sentiamo noi stessi diversi e questo film secondo me ci permette di ragionare su questo tema ma soprattutto questo film ci permette di capire cosa sia veramente la settima arte cioè il film il cinema come capolavoro artistico come espressione dei colori come espressione della luce della musica come espressione dell'arte perché questo film è una vera e propria opera d'arte con un messaggio di Daskalico molto forte ma che soprattutto ci colpisce per la sua dimensione visiva molto molto forte come ecco come se voi vedeste proprio un quadro un quadro faccio per dire di Botticelli o di Leonardo da Vinci che vi perdete nell'immensità dei colori nell'immensità delle forme stessa cosa succede con questo film io ve lo consiglio è veramente veramente stupendo veramente particolare il suo essere stupendo è proprio nell'essere particolare fuori dal comune così visionario molti lo hanno criticato proprio per questo secondo me è un vanto e quindi ve lo consiglio caldamente spero insomma di non avervi annoiato e ci vediamo prossimamente con una nuova recensione e con tanti nuovi percorsi da esplorare nel fantastico mondo dell'irrazionalità grazie a tutti e soprattutto grazie per insomma guardarvi questi video e condividere con me insomma questa esperienza ci vediamo alla prossima grazie a tutti